Oh che bello, prendo i miei bellissimi pomodori, vorrei anche mangiarmeli, però non posso, offina. Cos'è stato sto rumore? Aspetta un attimo, ma questo coso non c'è mai stato qua, ma che diavolo è questa cosa? Qua c'è un nuovo mistero, e qualcosa mi dice di andarci qua sopra. Ma che cas... Oh mio Dio, ma dove sono? Dove son finito? Ma che diavolo è sto posto? Ma questa è una mega città enorme! Un attimo, ma che diavolo è quello? Aspetta! Oh mio Dio, ma quello è Yellow dei Rainbow Friends, è il nuovo capitolo dei Rainbow Friends! Oh santo Dio! Ok, ho appena visto la sua vita, oltre al fatto che è letteralmente potentissimo, è praticamente immortale. Ok, io me ne sono scappato da Yellow, e... Sto visitando un attimo questa città, ma che cavolo è sta roba? Non è normale, cioè è una cosa enorme, imponente. E io non so... Non so cos'è sta roba, ma... Oh, ma dove siamo? Ma dove siamo? Che cavolo è? Questo è un altro di questi posti. Sembra che qua le persone, tipo, vengano a sedersi, è una roba di questo tipo. Qua ci si siede. Tipo, no? Però il bello è che non c'è nessuna persona. Ho sempre paura di girare gli angoli, perché questo è un posto che non ho mai visto, e sono stato teletrasportato in questa città, veramente... Ho visto un posto che si chiama Taverna. Taverna. Beh, andiamo a vedere. Non entrare. Ma ti pare che io non entro se mi dici che non entrare? Allora, fermi tutti. Che cavolo è sto posto? Cosa sta succedendo? Allora, qua vedo chiaramente che c'è stato qualcosa che non doveva esserci, come delle macchie di sangue. Cioè, volevo dire di ketchup. Accidenti. Poi qua ci sono cartelli dove c'è scritto non salire. Il che è letteralmente spammato ovunque ho visto. Cioè, non salire, non salire. Ultimo avvertimento, non salire. Ah, ma quindi su questa scala non devo salire. Cosa succede se salgo? Poi voglio vedere, dai. Cioè, questa è un'avventura pazzesca. Ero in quel villaggio e adesso sono qua, che figo. Ma sono salito e sono stato teletrasportato qua. Sei stato avvertito, non uscirai da qui. Allora, non penseranno di tenermi qua con queste finestre fatte di vetro e sbarre, vero? No, aspetta un attimo. Aspetta. No, 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 fermo. Io non posso scavare. Io non... Ma io... Perché sono in modalità avventura? In modalità avventura, non so se lo sapevate. Scrivetemi nei commenti se lo sapevate. Praticamente non si può, tipo, scavare. A meno che, tipo, non hai lo strumento adatto per poter scavare. Quindi in questo caso mi servirebbe un piccone. No, non posso uscire da qua. È letteralmente una prigione. Ma come diavolo è stato fatto questo posto? E io sono stato pure avvertito. E il bello è che io non ascolto mai gli avvertimenti, no? Sono proprio una testa di rapa. Ci muoio, palese. Cioè, diventerò uno scheletro? Oh mio Dio. Iscrivetevi al canale, chiaramente, per vedere come uscirò da qua. Se mai uscirò, ovviamente.